allora attenzione da casa vergassola prepariamo la festa della liberazione non potremo andare nelle nei prati a mangiare le fave e a cantare bella ciao ma siamo chiusi in casa e aspettiamo questa liberazione cercando di ricordarci alla per quello che è la vera liberazione perché non era un piccolo virus da cui ci dobbiamo liberare però non è quella roba lì erano grandi nazioni cose gigantesche che se non avessi a far la guerra con l'altro e finalmente il nazifascismo è stato battuto battuto ricordiamoci la resistenza bisogna sempre ricordarselo più passa il tempo più la gente si dimentica di questo invece sempre e ora resistenza non vi canto bella ciao perché potrei essere stonato ma non vorrei confondere con la casa di carta questa è roba seria viva la liberazione meno male che ci hanno liberato pensa come eravamo messi